La Sicilia, terra di accoglienza e integrazione, chiude le porte per una settimana, giorni in cui saranno vietati gli sbarchi di migranti. Le navi in arrivo saranno costrette ad allungare la tratta per poter attraccare in altri porti. Il motivo è proteggere i capi di stato in arrivo per il prossimo G7 a Taormina, previsto per il 26 maggio. A stabilirlo una direttiva firmata dal capo della polizia, Franco Gabrielli, diffusa già da qualche giorno. Impegnati circa 8.000 uomini che vigileranno e lavoreranno per far funzionare un sistema che deve tenere conto di possibili attacchi informatici da parte di hacker, dalle proteste dell'area antagonista e della minaccia terroristica. A partire da oggi sono stati ridotti gli sbarchi a Messina e via via i limiti per la navigazione si faranno sempre più stringenti. Da giovedì 18 a domenica 22 della prossima settimana, ovvero quella in cui cade l'evento mondiale, il porto della città dello stretto sarà blindato. Toleranza di quattro giorni in tutti gli altri porti della Sicilia che saranno off limits da lunedì a domenica. Il prefetto ha previsto tre aree di sicurezza, l'area di rispetto che comprende itinerari maritmi, aerei e terrestri, l'area riservata vicino ai luoghi del summit e la zona di massima sicurezza dove si svolgerà tutto l'evento in cui saranno attuate le massime misure di vigilanza e controllo con personale specializzato e tutte le tecnologie disponibili. Intanto questa mattina è approdata poco dopo le 7.30 al porto di Trapani la nave 18 della Guardia Costiera con a bordo altri 512 migranti e 7 cadaveri.